Siamo con Nunzio Currenti, quest'anno due promozioni, la possiamo definire l'annata perfetta per te? Sì, l'annata perfetta per me. I successi del Paribiro sono stati tre momenti importanti perché per noi rappresenta sicuramente un momento coinvolgente il successo della prima divisione, riportato in Dio, anche perché era la squadra di Sironi-Cotra. Quindi teniamo particolarmente molto alla cura di quello che c'è dietro la prima squadra. Poi la vittoria in Coppa Sicilia, credo che è stato il primo momento in cui abbiamo capito che il sogno di ritornare in Serie B poteva essere realizzato. Sabato scorso è stata credo l'apoteosi di tutto e l'operazione di Conquestiamola è arrivata a San Gataldo, perdevamo 2-0 con il doppio 25-23 e poi 3-7 capolavoro di una squadra che non ha mai mollato un passo e soprattutto che ha avuto un grandissimo condottiero come Tani Prinzi-Russi. Ecco, da Fiumefreddo a Mascali, coach della nuova linea, appunto con questa promozione in prima divisione. Quali sono le differenze da direttore sportivo ed allenatore? Qual è stata la sfida più grande a Mascali? Da direttore sportivo hai più impegni da rispettare, da sottoscrivere perché devi coordinare, curare i rapporti con i giocatori. E Fiumefreddo secondo me ha vinto negli anni perché ha saputo essere gruppo e famiglia. Se noi riusciamo a portare 350 persone fisse a partita è perché ha Fiumefreddo e da questo mi autoscudo perché vivo a Catania. C'è un gruppo di persone che ci lavora costantemente, da Giuseppe Nucifora, Maria Zia, Mario Lizio e tutti i dirigenti che si sono aggregati. Non vorrei dimenticarne nessuno alla guida di questa società. C'è quello che è mio fraterno amico, quello che mi ha spinto in questo sport che è Davide Massimino. Allenare, preferisco allenare perché sei sul campo, perché in quel momento devi decidere, devi gestire, devi fare. Maschali è una cosa diversa perché non c'era la squadra di serie, si è dovuto ricostruire da zero, ma lì la squadra non la faccio io. La fa Giuliano Certo che quest'estate ha faticato tanto, però ho avuto anche lì con grandi compagni d'avventura. Da Giuseppe Caffo, fondamentale per me in palestra perché magari quelle volte che arrivavo in ritardo lui era sempre presente. Gianni Finocchiaro che è stato mio compagno, come c'era Antonietta Mantello, Rosi Messina, ho vissuto. Nunzio, un'ultima domanda, semplice ma al tempo stesso anche molto difficile. Quali sono i tuoi obiettivi per l'anno prossimo? Pirano ha grandi forze, grandi sostegni. Spero tanto che le forze imprenditoriali si avvicinino molto alla palla a volo. È uno sport che merita. I giocatori noi vogliamo riconfermare tutti. L'idea è questa. Comunque riconfermare certamente il blocco che ha riportato questa squadra in serie B e rafforzarla perché vogliamo salvare il titolo a tutti gli effetti. Ma avremo molta cura con quello che c'è alle spalle. È lì che dobbiamo potenziare e garantirci il futuro.